Per me il progetto rappresenta un'opportunità per mettermi in gioco e anche per scoprire magari delle potenzialità nascoste che finora non ho avuto possibilità di scoprire. Ho fatto ufficio con la mia tutor e quindi ho fatto diverse mansioni, per cui ricerche per i centri estivi. Ho visto che comunque lavorare con i bambini è bello, mi è piaciuto molto. Questo progetto mi ha aiutato a capire quali sono le mie attitudini e a cercare magari uno sbocco lavorativo in quell'ambito. Quindi se riuscissi a fare un corso OS sarebbe ottimo perché potrei lavorare con i bambini che è quello che alla fine ho scoperto che mi piace. Stavo facendo l'aiutante, diciamo, e per il momento mi occupo delle comande, di fare pulizia, però il presidente dell'associazione mi ha già detto che mi aiuterà a capire meglio come si svolge, come si organizza un evento. Quindi stando qui imparerò anche questo, che è comunque una cosa molto bella.